Ciao ragazzi, ma cosa gli hai fatto, cosa gli hai fatto? Cosa gli ho fatto a chi? Fiorello Ah Fiorello, gli ho cantato un cavallo di battaglia Amami, amami, imperdonabilmente si Con la tua vita nella mia, ricominciando Hai capito? Venga bucciato in una macchina, facciamo un applauso Abbiamo anche un cittino uscito Si, 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 il titolo la Cerdana C'è la partecipazione straordinaria di Don Bacchi, di Beniturgu Caro amico Ascoltare, da comprare, da regalare Anche, anche volendo Cioè, bello regale, grande, grande La sfida, la sfida di canto Che va bene La sfida Che è una roba di guara E poi, va bene, pronti con la gara di canto La sfida di oggi è veramente importante Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è Non ce n'è, non ce n'è Ma qua te ne abbiamo trovato che sono veramente tante Ui, non ho paura, capito Pronti, va Paura, ma col maestro manca Possiamo provare a intonare la prima gara Il primo canto della gara Prego maestro Ascoltare, da repensionare la fritudine Non lo mi sia Natural non torna mai è difficile questa è pesante andate a giocare a pallone sulla 131 spostatevi poco a poco mi raccomando in studio attaccatevi alle poltruccine perché adesso vi spettiamo tranquillo siamo attaccati scordata e la minzana in forno e c'è buona assai ricchetta ed è meglio di la pava è più buona di l'anghita è più buona di l'anghita e mi friggi un bel e la canna bravo 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 andate a fare A chi la dedichi? Questa la dedico a Francesca, ciao Francesca, sei sempre nei miei pensieri e il mio cuore batte per me. E ricordati che quando ci vediamo si ti bongo mano Francesca, un bacio, ciao Massimiliano, ciao Massimiliano, ciao a te, ci diamo l'ordine per l'univa puntata, ciao un applauso a Stato e a tutti gli ospiti.